Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del Tg di 3B e partiamo oggi con la neve sull'Etna. Ancora una volta nelle regioni meridionali in questi giorni il maltempo si sta facendo vedere e sentire, con appunto anche delle nevicate sull'Etna, nevicate che insisteranno anche nelle prossime ore, proprio in questo momento ancora sono in atto, ormai sono in corso da diverse ore queste nevicate, non particolarmente abbondanti, ma viste le temperature, la neve sta rimanendo a terra e come ripeto ne cadrà dell'altra, tra l'altro accompagnata anche da parecchio vento si vede in questa immagine, quindi in alcuni casi è proprio una mezza bufera di neve. Vediamo anche dall'immagine del satellite cosa sta succedendo nelle nostre regioni meridionali, attraversate da questa perturbazione, parecchie nuvole come vedete in gran parte del sud, ma qualche annuvolamento anche sul medio adriatico e stamattina presto nelle estreme regioni di nord-ovest. Il tutto è associato a un centro di bassa pressione che insisterà ancora nei prossimi giorni, è posizionato al momento sul sud Italia, poi piano piano si sposterà verso l'est Europa, ma la pressione atmosferica rimarrà ancora relativamente bassa sulle nostre regioni meridionali. Più che altro, dopo una lieve rimonta dell'alta pressione molto temporanea, a partire da venerdì un nuovo impulso freddo rende l'atmosfera molto instabile. E comunque in tutta Italia con temperature bassine, guardiamo i valori di mercoledì. Le minime di mercoledì risultano in molti casi di poco sopra lo zero, in gran parte del centro nord, ma anche al sud, fra freddina e inizio giornata, eppure le massime non saranno particolarmente alte sotto i 15 gradi, ma in alcune zone di tura sotto i 10-12 gradi. Poi diciamo temporanea rimonta dell'alta pressione giovedì, ma venerdì nuova perturbazione in arrivo e lungo weekend di Pasqua vedrà ancora bassa pressione sull'Italia. Quindi rischiamo un weekend di Pasqua che al sud sarà molto variabile, soprattutto tra le giornate di sabato e domenica, e anche il centro Italia sabato rischierà qualche acquazzone. Per tutti gli dettagli e comunque anche su Pasqua e Pasquetta vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.